Trippone, dai da bere alla plebe. Ti hai fatto qualcosa? A che ti riferisci? All'attività dei sensi in base agli istinti elementari. Questa è una mia buca. Resterà da te due o tre giorni e il sistema c'è te lo fai. Mi dicono che hai saccheggiato mezza casa. L'ipnosi non si impara per scopare. L'ipnosi deve cambiare il mondo intero. Tu pensi soltanto a quelle due stronzate di merda sull'ipnosi. Carta bianca, punto nero e tu lì come un coglione. Tu dormi. Ma il comunismo è una condizione umana. Perché non ti sbagli? Ah, sei tu Dino. Così non va. Quattromila baci, oggi sembra perché l'amore. Ora mi stante, mile baci. Mile carece, voja lora.